Io ritengo che la prospettiva debba essere quella di proseguire nel prossimo futuro secondo quella visione che è una visione di selezione attenta degli interventi, di riduzione e contenimento della spesa attraverso provvedimenti che siano davvero di innovazione, di razionalizzazione del sistema senza nulla togliere alla sua logica ispiratrice, senza nulla togliere ai diritti che abbiamo riconosciuto via via a tutti i cittadini ma chiedendo anche in ragione della loro capacità effettiva di reddito, della loro effettiva capacità economica ai cittadini che sono in condizione di dare maggiori contributi, di darli anche al finanziamento di un sistema sanitario pubblico e in larga misura anche però fondato sul privato, un privato che deve sottostare a regole più severe e a controlli più oculati di quanto non si sia fatto per lungo tempo. In questo spirito io le rinnovo, signor Ministro, i sensi del mio apprezzamento per il suo impegno e per l'impegno di tutti quanti che hanno collaborato non solo alla redazione di questa bella relazione, il professor Simonetti, ma allo sviluppo della politica sanitaria del nostro Paese. Grazie. Grazie. Grazie.